È sempre tempo di nuove schede video e parliamo delle nuove soluzioni AMD basate su GPU Vega. Mi piacerebbe, eh? Invece niente. Abbiamo ancora un refresh, la serie Radeon RX500. Vediamo come vanno in dettaglio queste nuove schede. Battute a parte, AMD ha presentato questa settimana le nuove soluzioni Radeon RX500, nome che rappresenta una evoluzione numerica rispetto alle soluzioni Radeon RX400. In effetti cambia poco. Le GPU sono sempre quelle, quindi architettura Polaris, con incrementi nelle frequenze di clock, abbastanza contenuti ma interessanti per quanto riguarda la GPU e alcuni piccoli affinamenti per quanto riguarda la memoria video. Sono quattro le nuove soluzioni Radeon RX580, Radeon RX570, Radeon RX560 e Radeon RX550. L'ultima è il modello Entry Level e per la prima volta abbiamo una soluzione 550 all'interno della famiglia di soluzioni video di AMD. 560, 570, 580 sono le evoluzioni dei corrispondenti modelli della famiglia 400, con lievi incrementi nella frequenza di clock ma un'architettura base che non cambia. La principale novità riguarda la scheda Radeon RX560 che rispetto al modello 460 acquista un maggior numero di stream processor che diventano 1024 contro gli 896 della scheda precedente. In questo caso quindi otterremo un lieve incremento delle prestazioni da un punto di vista di potenza di calcolo della GPU ma sostanzialmente un posizionamento di mercato che è simile. E' appunto una certa standardizzazione che caratterizza tutte queste nuove soluzioni della famiglia 500 che AMD non propone quale upgrade a chi ha acquistato lo scorso anno o nei primi mesi di quest'anno una soluzione della famiglia 400. Il motivo è presto detto, le differenze prestazionali ci sono ma sono complessivamente molto contenute. Il target di riferimento è quello invece degli utenti che sono dotati di una scheda video della famiglia Radeon o anche Nvidia di precedente generazione. Parliamo ad esempio di chi ha acquistato una scheda della famiglia 300 o una scheda della famiglia 200. L'esempio classico è la scheda Radeon R9 280. In questo caso l'incremento prestazionale, come vedremo nei nostri benchmark, è piuttosto importante e permette di ottenere buona fluidità complessiva con i giochi alle varie risoluzioni abbastanza elevate, quindi Full HD e Superiore. Vedete qui accanto a me numerose schede video. Abbiamo approfittato di questa analisi per testare tre schede video della famiglia Radeon RX 500 messe a confronto con tre schede video basate su GPU Nvidia GeForce GTX 1060. Due schede RX 580 all'interno della nostra suite di bench. La prima scheda è il modello MSI RX 580 Gaming X 8G, soluzione che è caratterizzata da un sistema di raffreddamento piuttosto imponente, doppia ventola con i pipes e una placca posteriore a copertura del PCB e un lieve overclock della componente GPU e anche un lievissimo overclock della memoria video. La scheda Sapphire Nitro Plus Radeon RX 580 Limited Edition, non ho mai trovato un nome così lungo per una scheda video onestamente, è nuovamente dotata di due ventole con un voluminoso dissipatore di calore, due connettori di alimentazione 8 pin e 6 pin, heat pipes, nuovamente placca posteriore e soprattutto una frequenza di clock della GPU che è notevolmente overclockata. Si arriva a 1450 MHz, quale massimo dichiarato dal produttore. Dimensioni leggermente più compatte per la scheda Asus ROG Strix RX 570 Overclock, anche in questo caso overclock di default, sistema di raffreddamento a doppia ventola e un dissipatore di calore sottostante piuttosto voluminoso. Sono tre le schede video basate su GPU GeForce GTX 1060 di Nvidia che abbiamo inserito all'interno di questo confronto. La prima soluzione è il modello Zotac GeForce GTX 1060 3 GB, caratterizzata per l'appunto da un quantitativo di memoria di 3 GB con 36 delle altre due schede e soprattutto dalle dimensioni molto compatte. È una scheda corta, due slot di ingombro sulla scheda madre, un singolo connettore di alimentazione a 6 pin e specifiche di funzionamento che sono quelle reference di Nvidia. Passando alle schede GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria, il primo modello che abbiamo analizzato è quello di Gigabyte. Si tratta della scheda Gaming G1 che è caratterizzata da un sistema di raffreddamento a doppia ventola, una lunghezza complessiva abbondante, una placca posteriore di dissipazione termica e ovviamente una GPU overclockata di serie rispetto alle specifiche tecniche di Nvidia. L'ultima scheda è ancora in più imponente della precedente, parliamo della soluzione Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 overclock. In questo caso abbiamo un sistema di raffreddamento a tripla ventola, un dissipatore di calore sottostante estremamente voluminoso e una placca posteriore che protegge il PCB. Overclock di serie per la GPU piuttosto importante e prestazioni velocistiche che quindi sono leggermente superiori rispetto a quello che è il reference design di Nvidia per le soluzioni GeForce GTX 1060. Come vanno le nuove schede AMD? Le soluzioni RX 580 di fatto pareggiano quelle che sono le capacità prestazionali delle soluzioni GeForce GTX 1060. C'è un po' di variazione in funzione del tipo di titolo ma mediamente il comportamento è abbastanza allineato. Abbiamo scelto 7 benchmark ma sicuramente se prendiamo altri giochi otterremo un comportamento simile in alcuni casi premiando le soluzioni AMD in altre le soluzioni Nvidia. Di fatto quindi per l'utente appassionato scegliere una scheda RX 580 piuttosto che una scheda GTX 1060 è più o meno equivalente in termini di prestazioni velocistiche. Ricordiamo come per entrambi i modelli abbiamo utilizzato schede overclockate di default che rappresentano la maggior parte delle proposte presenti sul mercato. Prendendo i reference design o avremo ottenuto prestazioni leggermente inferiori ma di fatto risultati simili in termini di sintesi. Dove le schede AMD guadagnano un lieve margine di vantaggio è alla risoluzione più elevata che abbiamo utilizzato per i test 2560 x 1440 pixel. In questo caso i frames complessivi sono decenti, non sono altissimi, probabilmente è meglio giocare in Full HD ma le schede AMD riescono a guadagnare un lieve margine di vantaggio grazie alla superiore bandwidth della memoria video. L'aumento della frequenza di clock delle GPU che è AMD introdotto con le schede RX 500 è di fatto stato ottenuto grazie a un affinamento della tecnologia produttiva dotata per i chip Polaris ma soprattutto a un aumento delle tensioni d'alimentazione. Questo ha come riflesso negativo un aumento dei consumi complessivi delle schede. In termini di raffreddamento non ci sono particolari problemi. Le schede che abbiamo provato sono tutte dotate di sistemi di raffreddamento sovrabbondanti e quindi anche con temperature di ambiente elevate non ci sono problemi. D'altro canto però i consumi sono superiori rispetto a quelle delle schede 1060. Niente di drammatico ma va comunque evidenziato questo. In termini di rumorosità di funzionamento l'utilizzo dei sistemi di raffreddamento custom per tutte queste schede ha permesso di ottenere dei bilanciamenti ideali. Alcune schede hanno una rumorosità pieno calico superiore rispetto alle altre ma nel complesso si tratta di tutti i prodotti che dissipano molto bene grazie appunto ai radiatori importanti e alla presenza di più ventole senza diventare noiosi quando sono installati all'interno del case e vengono utilizzati per giochi 3D. In sintesi il mercato delle schede video di fascia media è estremamente interessante in questo momento. AMD ha di fatto riproposto con le schede RX500 quelli che sono i punti di forza della propria architettura Polaris allo stesso tempo evidenziandone il limite principale che è quello di un consumo non così elevato ma un po' superiore rispetto alle soluzioni concorrenti di Nvidia. Cosa acquistare? Ma dipende che cosa vi interessa. Di fatto scegliere per l'una o per l'altra azienda, quindi AMD o Nvidia, in questo momento non implica ripercussioni da un punto di vista prestazionale. Mediamente le due architetture vanno nello stesso modo. Particolarmente interessanti le schede 570 a nostro avviso le quali sono proposte a un listino allineato attorno ai 200 euro e va inclusa nel mercato italiano per le versioni a 4GB che permettono di ottenere soprattutto in Full HD ma anche a risoluzioni superiori delle ottime prestazioni velocistiche e medie non facendo rimpiangere i modelli RX 580 o le schede GeForce GTX 1060. Quale modello scegliere? Molto dipende dalle vostre preferenze personali in termini di una marca o l'altra. Nel complesso quindi, se eravate già interessati a una scheda Radeon RX della famiglia 400, indirizzatevi pure su un modello 500, problemi da questo punto di vista non incontrerete e otterrete qualche cosa in più di termini di prestazioni. Se invece la vostra preferenza era rivolta a una scheda Nvidia GeForce GTX 1060, potete pure stare tranquilli in quanto il lancio nuovo delle schede AMD non ha di fatto cambiato il quadro e il rapporto tra le due aziende in questo particolare segmento di mercato. Volevate Vega? Invece avete avuto Polaris. C'è ancora un po' da aspettare per il debutto delle nuove generazioni di GPU AMD top di gamma. Nel frattempo iscrivetevi al nostro canale, lasciate i commenti, guardatevi i nostri video, seguitici sulle pagine di Hardware Upgrade e a presto, magari non tra molto, con informazioni su Vega. Grazie per la visione!